di nuovo insieme con pronti a star bene alla rubrica di singe tv che festeggia il primo mese di programmazione guardiamo anche con un occhio al futuro a quello che potrà essere di qui a qualche mese influenza stagionale oggi al centro della nostra analisi e allora durante questa fase due che cosa sarà anche dinanzi alla possibilità dell'influenza stagionale e qual è la proposta anche di singe che cosa cambierà lo chiediamo direttamente al presidente della singe claudio cricelli che è con noi ben trovati qualcuno si chiederà per quale ragione mentre siamo entrati da poco in piena fase 2 di covid 19 ci stiamo occupando e preoccupando molto dell'influenza stagionale la ragione l'abbiamo già spiegata in un documento che abbiamo inviato al ministero alle regioni all'istituto superiore di sanità all'aifa in cui prendendo spunto dalla stagione influenzale che sta arrivando nell'emisfero australe quindi australia sud africa e altri paesi abbiamo sottolineato come il rischio che si trovi una coincidenza una sovrapposizione temporale tra influenza stagionale e covid 19 è molto rilevante per questa ragione in quei paesi ma in tutti i paesi europei si sta sviluppando un grande movimento una grande campagna per la vaccinazione estessa una vaccinazione che abbiamo chiamato universale il che non significa obbligatoria estessa significa disponibile per il maggior numero di cittadini del nostro paese a partire dall'età minima di sei mesi di vita e possibilmente che comprenda tutte le persone che hanno delle patologie croniche indipendentemente dalla loro età ovviamente tutti gli ultra 65 anni fragili e comunque tutte le persone che volontariamente decidono che proteggersi dall'influenza può eliminare uno dei fattori di confusione che in pieno inverno potrebbe creare dei dubbi tra la riaccensione di un focolaio di covid 19 ed una patologia veramente influenzale o simile influenzale questa iniziativa legata al fatto che ormai è nota la composizione del vaccino dei vaccini disponibili per la prossima epidemia influenzale questa composizione già nota dal tempo i vaccini per l'emisfera australe sono già stati approntati a partire da aprile del 2020 e sono già in somministrazione a partire dal primo giugno direi che la campagna vaccinale in australia è quasi conclusa e le raccomandazioni e le considerazioni fatte in quel paese saranno assolutamente applicabili con le dovute differenze naturalmente anche al nostro paese e a tutti i paesi europei quindi la campagna è rivolta sia come sensibilizzazione nei confronti dei nostri concittadini sia anche come appello ai medici di medicina generale vorrei concludere con una considerazione perché occorre essere particolarmente previdenti quest'anno perché occorre programmare con particolare attenzione non soltanto la disponibilità e l'ordinazione dei vaccini ma anche la loro programmazione all'interno dei nostri studi perché a differenza degli altri anni la somministrazione dei vaccini non seguirà i criteri di una volta non sarà di massa nel senso che tante persone insieme potranno accedere ai nostri studi e ricevere diciamo in fila ma rapidamente il vaccino anche quest'anno il concetto di distanza personale di accesso regolamentato ai nostri studi anche per un evento importante come somministrare e ricevere la vaccinazione sarà sottoposta appunto a questi due criteri lentamente cioè lasciando passare del tempo perché il tempo è necessario per pulire igienizzare e rendere sicuri i nostri studi e distanza cioè distanti uno dall'altro accesso regolamentato prenotato ai nostri studi quindi tutti noi professionisti comprendiamo e dobbiamo far comprendere ai nostri cittadini ai nostri concittadini assistiti che quest'anno la vaccinazione non solo è più importante ma verrà programmata con grande attenzione perché ci vorrà più tempo e maggiore cautela nella sua somministrazione